Un passaggio di consegne voluto o dovuto che magari se fosse avvenuto 5-6 anni fa sarebbe stato ancora meglio però per gli impegni dell'associazione occorre che una persona sappia che ci si deve dedicare e quindi finalmente abbiamo trovato un genitore disponibile ad essere presenti in associazione sia la mattina che il pomeriggio per cui noi andremo avanti con i nostri impegni. Io non è che esco dall'Agbe, rimango nell'ambito dell'Agbe preoccupandomi di quella che è la raccolta fondi che fino ad oggi è quello che ci permette di andare avanti, di portare quel sorriso ai bambini ricoverati con le famiglie ospitate in casa alloggio o con il trasporto casa ospedale casa e con tanti altri servizi che offriamo sempre gratuitamente ai nostri amici meno fortunati. Io in pratica sono stato in questi 16 anni sempre a fianco di Massimo, l'associazione l'abbiamo fondata insieme che è chiaro che lui è stato il trascinatore, quello che ci ha dato la forza e lui che è stato sempre in prima linea però è sempre stato supportato da me e dagli altri consiglieri quindi non cambierà niente se non ci sarà un impegno da parte mia, un forte impegno perché noi abbiamo sempre creduto in quello che facciamo e continueremo a crederci. Sicuramente abbiamo altri progetti nel cassetto e cercheremo di portarli avanti. Sono abbastanza tranquillo perché so che quello che facciamo è che cosa andiamo incontro. So quello che mi aspetta, so che cosa faccio e poi strappare un sorriso ai bambini è la mia mission e quindi sicuramente la mia famiglia sarà felice di questo.